Bella Ma Bella Ma Allora Costantino Italiano legge a Silvia di Giacomo Leopardi accompagnato da questa nostra band straordinaria che sono gli infieri Quando volete voi Silvia, rimembre ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi dei tuoi ridenti fuggitivi e tu, lieta e benesosa il limitar di gioventù salivi Snovan le quali... cos'è che c'è scritto? Le quiete stanze le viedi intorno al tuo perpetuo canto sai che con sta luce negli occhi non vedo allorché all'opera femminile intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi era il maggior odoroso il maggio odoroso Ah, il maggio doloso e tu solevi così menari il giorno Poi? Ah, dobbiamo andare tutta? Ah, ma la che fai? Io gli studi le giadri talor lasciando le suade carte ove il tempo mio primo e di me si spendè la miglior parte In su i veroni del paterno stello porgea gli orecchi al suon della tua voce e alla man veloce che percorrea la faticosa tela Mirava il ciel sereno le vie dorate e gli orti e quinci al mar da Luigi e quindi... e quinci il mar da lungi e quindi il mondo Ah, vedi, e quindi stavo dicendo e quindi va bene Lingua mortal non dice quel che io sentiva in seno che pensieri suavi che speranze che cori o Silvia mia quale allor ci apparia ci apparia la vita umana il fato quando svementi di contà speme un effetto mi preme acerbo e sconsolato e tornami a doler di mia sventura o natura o natura perché non rendi poi quel che prometti allor perché di tanto inganni i figli tuoi tu pria che l'erbe dai aiutami perché lo sai che io inaridisse il verno da chiuso il morbo combattuta e vinta perivi ottenella vedi che tu la sai e non vedevi il fior degli anni tuoi poi ancora c'è un'altra pagina non ti molceva il core non ti molceva il core non ti molceva il core la dolce loder or del di negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi ne te con le no è qua ne te con le compagnie al di festivi ragionavano d'amore ragionavano d'amore anche per io fra poco anche se sto per morire la speranza è la mia dolce te la traduco in italiano gli anni miei anche negarono i fatti la giovanezza hai come, come possa sei come passata sei c'era compagnia dell'età mia nuova nuova cara compagna dell'età mia nuova mia lacrimata speme questo è quel mondo questi i dilitti questo è quel mondo? i dilitti, l'amor, l'opere, gli eventi onde con tanto ragionamento insieme onde con tanto ragionammo insieme ma adesso è tornata a scuola questa è la sorte dell'umane genti tu misera cadessi con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano questa bellissima poesia di Leopardi mamma mia è bellissima bisogna saperla interpretare racconta un sentimento verso la donna amata allora oggi secondo te di tutto questo sentimento di queste poesie sentendo le canzoni che sentiamo quella che anche mi hai mandato in onda che comunque può far riflettere c'è una grossa differenza? infatti io voglio chiederti questo sentimento ti è mai capitato nella tua vita al netto delle tue storie pubbliche che tutti conoscono ma in questo momento della tua vita ti è mai capitato di amare una donna e non essere desiderato e non essere amato? il punto di vista che noi tutti uomini amiamo sempre quel qualcosa che è irraggiungibile poi se sei fortunato riesci a raggiungere io devo dire che la mia fortuna è che quando ho voluto veramente qualcosa sono sempre arrivato a dove volevo arrivare ad averla, ad ottenerla anche con le donne perché la donna che sfugge non è vero che non ti vuole e che magari vuole che tu mostri qualcosa che magari nessuno l'hai mai mostrato cioè io ho avuto tanti no nella vita prima di arrivare a prenderci ma tu la sua fragilità alle donne con cui hai avuto un rapporto? la mostro ma certo ma mostrare ciò che sono non è un difetto anzi per me è un pregio solo che non tutti lo vogliono vedere anche sotto quell'aspetto anche nell'aspetto sentimentale la donna pensa che io sono quello che non ha un cuore non ha una mente ed è solo quello che viene mostrato ed è stato mostrato logicamente quando poi si trovano davanti i fatti cambia tutto ma cambiano anche le mie opinioni poi su quello che accade nel rapporto chiarissimo Diego hai curiosità su Costantino? sì, allora non vedo chi è Diego Diego è quel ragazzo con gli occhiali il concorrente della generazione Z di oggi perdonami ma figurati su alcune interviste che hai rilasciato e anche diciamo un accenno che ci hai dato prima ho letto che comunque ad un certo punto della tua carriera ovviamente la visibilità è venuta meno è stato messo in castigo le persone che ovviamente erano due amiche solamente per interesse sono sparite tutte e tu come hai affrontato questa cosa? come l'hai vissuta? come l'hai presa? ma a me non faceva male che loro fossero sparite quello che mi ha fatto male è stato il mio non essere pronto mentalmente perché fisicamente lo ero perché io ho sempre usato il mio corpo la mia forza fisica la mia prestanza nel momento in cui tu ricevi degli stress che sono dovuti sia dalle persone vicine che anche non perché comunque negli anni ho ricevuto stress sia da chi mi voleva bene da chi non me ne voleva oppure che diceva di volermi del bene è quello che poi ti fa crollare quello che poi muove tutto il corpo perché se stai male qua tutto il resto ne percepisce infatti io sono arrivato a pesare 60 kg ma hai fatto un percorso di analisi o no? o hai fatto da solo? ci ho provato non era non era cioè parlare con una persona io l'ho sempre fatto io non ho paura di dire mai la verità l'ho sempre detta davanti a tutti non era quella il modo per farmela passare che poi non passerà mai ormai fanno parte di me solo che adesso sono in grado penso di essere in grado di gestirle almeno per ora ma la maturità, l'età che avanza io ho vissuto per un po' di anni con le bottigliette di Sanex in mano ovunque andavo anche quando entravano i programmi e voi non lo sapevate ma adesso quanti anni hai? 48 ah ah vedi? eh ho capito ne avevo 26, 27 Nadia a te la parola hai curiosità su Costantino? sì, sì vorrei sapere come me hai deciso di intraprendere l'attività di formatori di Persona Shopper e se comunque dietro di? io ho fatto anche l'insegnante di Persona Shopper perché significa Persona Shopper? quello che ti ha detto lei adesso un altro nome però negli anni prima ancora che esplodesse il fenomeno web e quindi influencer, tiktoker c'era il Persona Shopper che per le persone facoltose che non hanno il tempo lavorano tutto il giorno si occupava di scegliere gli abiti sia per il lavoro che per il weekend e glieli faceva trovare nell'armadio era proprio un lavoro penso che ci sia ancora oggi cioè perché ci sono persone che si fanno scegliere perché ha tanti soldi sì perché ha tanti soldi c'è gente che ti crea proprio il tuo cabine armadio ma questo è fufa quattro stagioni ecco io volevo sapere non ho venduto fufa perché la verità è che molte persone come queste lavorano oggi perché ci sono persone che hanno bisogno di questi professionisti perché si chiamano professionisti difatti volevo sapere la domanda scusa è che lui è meglio che furbo mamma mia va bene la domanda era hai studiato in realtà per hai avuto una formazione ho fatto il modello per non so no no parlo di Persona Shopper ma va ma c'è la dinatura non lo vedi il Persona Shopper sto dicendo è nato nel quello che è stato il mio percorso prima di apparire come adesso apro una parentesi poi la chiudiamo però voi vedevate quando io apparivo nei programmi televisivi quando si poteva fare che io ero dalla testa a piedi brandizzato no ve lo ricordate oggi no oggi sono più nero di così sono messo come te mi raccomando c'ho niente però tanti anni fa si poteva mi era permesso e quando voi vedevate che io scendevo coi pantaloni abbassati se no come te le facevo vedere l'intimo la scritta di chi mi pagava quando stavo così ore e ore come te lo facevo a vedere l'orologio che mi pagava oggi non è che mi paga però tutte queste cose io ma io non ci ho capito niente io cercavo di capire come i miei spazi televisivi mi potessero dare oltre il cachet che mi davano anche la parte economica di sponsorizzata perché il modello prima lo facevo sui cataloghi e sull'affissione poi ho potuto pensare che lo potevo fare qui però amore mio scusa io rec potevo farlo anch'io cioè devi avere una prestanza ci sono i ragazzini che dopo di me ci sono portati i pantaloni fino a qua non so chi l'ha inventata quella moda ma c'è stato un periodo dove i ragazzini andavano in giro con le mutande basta no mamma mia io me la abbassavo fino all'elastico che cattivo gusto che cattivo gusto non c'entro io lì però c'è Lorenzo il chitarrista di Infieri che ha una domanda da farti Lorenzo scusami scusa le spalle senti nell'economia della tua carriera mi prendo un giro il momento in cui hai sentito il peso e questa è una mia supposizione corregimi se sbaglio figurati del fatto che nel tuo lavoro la forma contasse di più della sostanza è quello che volevano se tu vuoi una cosa io te la do che me ne fotte scusa che mi importa a me come te la do l'importante è che io arrivo al mio risultato in quel momento il mio risultato era portare a casa più soldi possibili più immagine possibile più io facevo quello e più mi portavano in alto perché dovevo smettere perché doveva smettere qualcuno vuole rispondere Angela prego volevo portarlo su un altro discorso in base a dove volete prego vado no nel senso che si parla ancora di tutto il tuo passato grazie io invece mi voglio concentrare sull'oggi il qui ed ora cosa c'è dentro di te cosa abita dentro di te in questo momento in questo tempo che vivi adesso che hai passato insomma la gioventù ma io vivo la mia quotidianità facendo ciò che mi piace fare e questo è stata sempre la mia forza ho sempre potuto fare ciò che mi piaceva fare stare bene godermi le persone a cui voglio bene oggi c'è mia figlia ci sono i miei amici di vecchia di strada dove io ancora oggi vado da loro a trovarmi mi siedo lì e parliamo delle nostre cose che non sono più quelle che tutti pensano che siano io non sono tra virgolette uno che pensa solo ai soldi però per un periodo ragazzi come facevo a non pensarci chi li ha mai visti quei soldi da dove venivo io questo è il senso molte volte hai perso la testa no io non ho perso la testa io ho capito che dovevo prenderli lì subito se non li prendevo me li toglievano infatti ragazzi la verità è che dopo un totta mi hanno messo da parte ma non è una colpa di nessuno lo sapevo e allora ho detto pompiamo fino a quando posso poi dopo vedrò come poi dopo è un metodo questo è un metodo Francesca poi c'è Federica Stella come da te precedentemente esplicitato le tue esperienze lavorative sono molteplici quindi barista spoglierilista modello elettricista idraulico ho tirato in cavo il quadro elettrico del principe di Savoia l'ho tirato tutto io ma che stai dicendo? certo il quadro elettrico della nuova ala del principe di Savoia che non è più la nuova ala quella dietro la cucina l'ho tirata tutta io i cavi nel quadro elettrico ma del principe di Savoia intendi l'albergo? a Milano il principe di Savoia nel senso l'albergo chi si poteva permettere una volta di andare al principe manco poteva entrare entravo dal retro scusa non ho capito hai fatto l'elettricista al principe di Savoia? sì sì ho fatto tutto l'impianto della cucina l'ho tirato tutto io guardavo sul foglio ok avvitare il filo tac tac stupendo Francesca? sono tante comunque anche le esperienze televisive e quelle come attore al netto di tutte queste esperienze c'è qualcosa che non rifaresti tipo cito dei ledi no no farei di tutto farei peggio farei se potessi se potessi tornare indietro farei di peggio ma peggio non nel senso cattivo farei ancora più cose di quelle che ho fatto solo che so che il tempo purtroppo lo sapete Federica te la parola poi Stella ciao io volevo chiederti secondo te è giusto dare la fama ad una persona solo per la sua bellezza invece per il suo merito ma soprattutto la fama adesso di Costantino è dovuta dalla scia che è rimasta di uomini e donne e quindi dal boom che c'è stato nel 2003 oppure c'è qualcosa di merito che effettivamente è rimasto sono più domande in una queste sono più di una quindi partiamo la prima secondo te è giusto dare no volevo mettere a disagio io lei no ma io mi metto a disagio però voglio far capire con questo che non è questione di essere belli e allora ti hanno dato un qualcosa io ricordo che prima che arrivassi io sul mezzo di comunicazione c'erano le top model le modelle più pagate al mondo i nomi li conoscete no? Mick Campbell Cindy Croft o Claudio Schiff dove io sfilavo con queste donne però all'epoca loro solo perché erano belle erano non pagate di più però essere modella è un lavoro io ho iniziato a fare il modello però ti venivano strapagate molto di più di quelle di adesso quindi cambia la versione di quello che mi viene dato oggi poi per quanto riguarda il saper fare se quello mi chiedevano io quello gli davo ti ho già risposto prima e se quello mi dava tanto a me perché non continuare a darglielo tanto se io fossi stato bravo sapevo leggere le poesie non gliene sarebbe fregato niente a nessuno beh sarebbe stata un'altra strada ma non avrei fatto il percorso e senza offesa non sarei durato così tanto non volevano quello da Costantino mi spiace l'hai fatto vedere tu tu eri anche attratto molto dal denaro non ero attratto io lo facevo solo esclusivamente perché mi mostravano che più mi comportavo e facevo io portavo a casa tu potevi mi eri obbligato potevi scegliere di sottrarti a tutto questo lo volevi anche tu io ho voluto quello subito appena sono arrivato lo continuo a dire lo continuo ma non è che mi devo però il punto di vista è che anche se avessi voluto fare altro avrei perso altro ho deciso che per me era più importante monetizzare piuttosto che perdere quell'attimo e perdere il mio dopo ma è un cinismo talmente franco talmente dichiarato che cosa gli vuoi dire allora Stella a te ciao qual è la cosa che ti capita di più di invidiare nelle altre persone? mai invidiato nessuno in vita mia io senza offesa però vedete questo è il punto purtroppo mi spiace per chi nasce senza niente non c'è invidia chi nasce senza niente impara a crearsene le cose con i sacrifici quello che purtroppo mi spiace giovani voi non conoscete senza offesa però i numeri parlano non sono io parlare però come su di te scusami però come su di te ci sono state molte semplificazioni ma io parlo per i numeri i numeri sono che oggi abbiamo una media ma io ero un numero quindi parlo per questo il mio numero diceva che Costantino non sapeva fare niente però lo chiamavano dappertutto io oggi mi ritrovo a parlare con molti giovani che mi fermano e mi chiedono dei consigli oppure mi chiedono mi mandi a uomini e donne come se io fossi Maria De Filippi che salutiamo Maria grazie però il punto di vista è quando mi fanno queste domande o mi fermano e lì vuol dire che fondamentalmente non hanno capito niente di come funziona questo sistema ma mi fai capire Domenico Restuccia la reputazione web su Costantino Vitaliano che dicono sui social? allora buonasera Costantino se non sono bloccati perché a me sono tutti bloccati ha elaborato il suo sentiment cioè lo stato d'animo che hanno le persone quando parlano di lei su internet sei l'unico che mi sta dando del lei mi fai sentire vecchio lo faccio con tutti ma le faccio vedere il grafico perché voglio fare un ragionamento con lei possiamo vederlo tutti insieme attenzione è buono nel senso che c'è un 14.2 che parla bene di lei un 6.2 che ha qualcosa da ridire e poi c'è la parte gialla quasi 80% che sono diciamo astenuti una volta sarebbe stato tutto rosso tutto rosso questo è il ragionamento che volevo fare ho pensato elaborando il sentiment ma 20 anni fa circa 20 anni fa la parte gialla non ci sarebbe stata perché di Costantino se ne parlava nel bene e nel male se ne sarebbe parlato ma gli altri due spicchi secondo lei ma ripeto tanti anni fa più mi attaccavano e più io crescevo di notorietà e portavo a casa più pagnotta detto come detto più cioè in questo mondo dell'apparire se sei nella zona verde dopo un po' si stancano di te allora lei però a un certo punto è arrivata a questa zona verde mi pare di capire se quando sono arrivato alla zona verde io sono arrivato che avevo sempre un bastian contrario cioè chi mi difendeva chi mi attaccava questo mi sosteneva e mi portava sempre in alto la verità è questa quando hai due poli che se la litigano e se la contendono e però parlano sempre di te ok quella è stata la mia fortuna di avere quella fascia rossa che per quanto pensavano di buttarmi giù invece grazie a quel rosso che era molto più ampio di quello che hai mostrato tu all'epoca io non perdevo anzi aumentavo perché c'era chi mi difendeva dall'altra parte che mi dava la possibilità di avere questa botta e risposta il brutto è quando non ci sono il botta e risposta se c'è solo il verde non serve c'è dell'altro Domenico? sì perché poi il suo nome associato in una nuvola di parole che circolano sul web ha nomi come DiCaprio Beyonce JC questa è stata l'ultima intervista però e infatti mi sono chiesto ma Costantino ci fa una fotografia di una serata tipo dove ci sono eccessi milioni guadagnati nomi come quelli che ho detto e quello che stava dicendo prima il nostro amico qui è che purtroppo questo è il web e sul web ci sono tante take news è falso? è falso perché io ho raccontato alla nostra amica Candida sul Corriere della Sera penso che voi conosciate Candida e Candida Morvillo che è una tradizionale giornalista del Corriere della Sera e quindi mi ha fatto questa intervista dove lei era anche lei in quei tempi c'era presente c'era il direttore di Piazza che è il mio ex direttore di Max dove ho fatto il primo calendario e quando io presentai il mio calendario c'erano anche loro nel billionaire nel privé c'era Beyoncé c'era Gesì c'era Di Caprio tanti altri però la gente era lì per Costantino io ho detto questo io non ho mai detto sono uscito sono andato in discoteca con loro io ho detto c'erano anche loro ma la folla ho lavorato il mio nome è differente da quello che poi riporta il web ciò che io parlo su un'intervista vera scritta cioè chiamavano lei non chiamavano me io ero ospite perché presentavo il mio calendario il bignone negli anni che magari voi eravate giovani aveva questi clienti quasi tutte le sere d'estate solo che la gente veniva per vedere Costantino anche se c'erano personaggi del calibro infatti era mediaticamente più forte mi stava dicendo tipo di Beyoncé io riempivo il locale adesso scusa mi dice una cosa Costantino per capire io non sono attratto da quel mondo là proprio non mi appartiene culturalmente dico ma quando vai in vacanza cioè che vuoi andare al mare con tua figlia io vado a casa mia dove? io a Milano Marittima vivo a Milano Marittima da 18 anni ho casa a Milano Marittima è una vita senza attenzione senza telecamere senza fotografie c'è una vita normale ragazzi faccio quello che mi ha insegnato il mondo oggi giorno non c'è più il paparazzo che ti rincorre dopo 30 secondi ho fatto una storia non serve più il paparazzo c'è un momento c'è un momento in cui uno non comunica se stesso e vive le cose in sobrietà e riservatezza oggi non ho comunicato ancora niente da quando sono entrato ma ripeto penso che è cambiato il mondo in cui lo facevo io cioè io prima non mi interessava comunicarlo erano gli altri che volevano comunicarlo perché ci guadagnavano i paparazzi mica mi davano i soldi a me quando mi paparazzavano io non pigliavo una lira dalle foto dei giornali erano loro che guadagnavano adesso dopo tanti anni la tua qualità della vita ma è uguale identica a prima solo che oggi ho la possibilità di respirare camminare dire anche non ho voglia di fare la foto perché sono con mia figlia o con una compersona prima invece non mi tiravo mai indietro la facevo perché era lavoro oggi invece ho la mia vita stai meglio oggi ma io sono sempre stato bene sì però sarai più consapevole più sereno dentro di te o no? ma io ero sereno anche prima facevo ciò che mi piaceva il mio stress non è stato fare ciò che facevo il mio stress è stato arrivare a un punto dove ho capito delle cose che purtroppo non si possono dire in televisione prova a dirmene elegantemente dimmene una cosa hai capito? è che Costantino doveva finire Costantino mediaticamente? non ci doveva essere più questa cosa perché doveva nascere qualcosa di nuovo perché infatti è nato qualcosa di nuovo ma io non ti ho più visto in tv eh no? avevo una lettera dove c'è scritto che Costantino non era più un ospite ma tu oggi io ti ho invitato no? sì però è passato dieci anni sono passati dieci anni tu sei venuto hai accettato certo ma so che ti hanno invitato anche altre trasmissioni ci sono alcune dove vado altre dove non vado in base a lo sai benissimo a un compenso che mi danno ci sono programmi che oggi ti prendono a gratis io non sono mai andato al di là del compenso immagino che tu avrei anche detto chi lo conduce questo programma com'è fatto ma io mi faccio spiegare però lo sappiamo benissimo la parte economica ma perché hai accettato di venire qua? perché sei tu e l'altra volta sono andato perché qua dietro ci abbiamo contrato una persona che è stata la prima che mi ha fatto un casting avevo 17 anni e mezzo quindi io voi vi rispetto chi invece non conosco non è che non lo rispetto però io dico non mi dire quello che devo fare perché non me l'ha mai detto nessuno e non inizio oggi a 48 anni ma è chiarissima la tua risposta allora ragazzi sta accadendo una cosa curiosa devi sapere Costantino colpo di tosse compreso